È un giorno importante aver dato alle nuove generazioni future una struttura che è assolutamente all'avanguardia e questo è una cosa che veramente ci inorgoglisce. Bimbi, questa sarà la vostra nuova sede dove potrete leggere, imparare e soprattutto giocare con i vostri amici e con le vostre maestre. C'è un valore poter fare, studiare i nostri figli e permettere di lavorare al personale docente e non docente in luoghi più belli e moderni, confortevoli, ha un valore io credo anche sulla didattica e sull'apprendimento. È una messa in circolo di ossigeno per il mondo del lavoro e delle imprese che permette appunto di creare un po' di ricchezza e ridistribuirla. Se siamo la regione che da due anni cresce di più, più addirittura è la Lombardia, è perché abbiamo anche rimesso in circolo molti investimenti pubblici. Al prossimo episodio